buongiorno a tutti ragazzuoli benvenuti a questo nuovo e velocissimo video sono qui per aiutarvi nella sfida che dice cerca l'ognomo tra vista elegante un capanno di legno e una grande casa allora io mi sto dirigendo in questo momento vi faccio vedere bene dalla mappa dove si trova allora questa è vista elegante che è una mega villa lussuosissima questa è un appartamento penso un condominio gigantesco fatto di due case attaccate e il capanno di legno è questo quindi l'ognomo dovrebbe essere in questa zona andiamo assieme a trovarlo per la prima volta allora vediamo se dall'alto troviamo qualcosa al volo intanto che cerchiamo vi ricordo che sono anche in live tutti i giorni su twitch per i regali dallo shop allora vediamo nel frattempo se riusciamo a trovare questo bellissimo gnomo allora dovrebbe essere un po nascosto e quindi non è semplicissimo a trovare vediamo se lo troviamo velocemente invece ok ragazzi e dopo essere mi accorto come un pirla di non aver ancora sbloccato la sfida pensavo di averla sbloccata invece no perché mi raccomando dovrete averla qua eh se non ce l'avete qui vuol dire che non l'avete ancora sbloccata e quindi vuol dire che non vedrete lo gnomo eh ragazzi mi raccomando non fate il mio stesso errore cioè io lo sapevo ma non me ne sono anche accorto allora quella è la vista quella è la quella è la fancy view come si chiama cose così quello è l'appartamento gigante quello è il capanno di legno e lo gnomo esattamente al centro ragazzi proprio al centro delle tre viste in mezzo alla collina in mezzo ai fiorellini belli primaverili e niente per fare la sfida bisogna semplicemente cercarlo la sfida è completata io vi auguro buon proseguimento con tutte le sfide noi ci vediamo un prossimo video mi mi raccomando iscrivetevi ai channel twitch youtube e con giochi carrieto a loro di guonata 7 ciao ciao che è una bella emote se me la fa niente è forte in te è sempre buggato ciao ciao